Nel quale, signora Crosendega, Capitoli 3 di Lanti ha un relato del quale noi abbiamo potuto copilare anche dei pacienti che sono stati in Cali, Colombia e che sono stati ben back. Dono informazioni da Azad Vey, siamo chiesti che i pacienti sono stati ben secchi per donarci un relato, un'esperienza, in maniera di convivere nel 3 di Lanti non c'era una luna, ma non c'era quasi un o due aia e non c'è un testimonio con la pazza e bona. Noi, non c'è un'altra banda, non c'è un'altra zona, un'altra zona più interessante di cui non c'è un'entrevista qui, per la prensa e il popolo di Aruba con maniera Viviana menzionata è la construzione di un hotel di Bia Nova. Noi, non ci sono mai attenti a quale parte e quale ha avuto la construzione di un hotel qui, come un hotel di recuperazione. Noi, non ci sono capi, ma anche noi abbiamo fatto le nostre che stanno costruendo l'abbò. La domanda di cui ci stanno facendo qu'è il ruolo qu'è il ruolo l'Azadvay sta costruendo la costruzione del hotel qui? Per la maniera non sa, l'Azadvay ha il ruolo è un asseguro medico e non una compagnia di costruzione. Nel 17 caso, il Pueblo di Aruba, pagatore di prima di Azadvay, ha il derecho di sapere qu'è il ruolo l'Azadvay sta costruendo per la costruzione del hotel qui? Quanto ci stanno costruendo per la parte finanziaria che vuole invertire da parte dell'Azadvay, da parte del governo di Aruba, per questo hotel del caso che vuole costruire e che vuole costruire nel momento. Noi chiamiamo il tour d'Anki per attendere e per l'intervista. per l'Azadvay per l'Azadvay per l'Azadvay da un'Azadvay e per l'Azadvay per l'Azadvay per l'Azadvay per l'Azadvay è buono e ora non si può essere in arrivo e se vanno a la televisione in Aruba per avere anche il testimonio di erubie e di quello che è in verità con la esperienza e il testimonio con cui non si sta passando, quando si sta tommendo il luogo reale. Passiamo alla mia nota, la gente che ci sta attenzando è solamente da parte di un assicurato medico, con la qualità azedvai, però non si non ti nguhende, cosa sarà la defensa di Epashandang, cosa ballende bo, e ora di being back Aruba.